All'interno della nostra città sicuramente ferita, ma comunque ancora ho la voglia di vivere, naturalmente una città ferita perché abbiamo le chiese che sono crollate o parzialmente crollate. La mostra mercato ci ha sempre dato una grandissima visibilità, la 56esima edizione, una delle più importanti del tartufo nero, sicuramente la più importante, consideri che noi siamo gemellati con Alba, quindi noi andiamo ad Alba per l'inaugurazione della mostra del tartufo bianco di Alba e loro vengono da noi per il tartufo nero di Norcia. Le presenze normalmente erano sulle 10-12 mila, presenza weekend, quindi importante per l'economia. Grazie. Ciao.